E all'interno ci stanno tutte le cose più buone dell'umore. Il giro d'Italia con Saporitali. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Saporitali per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Non solo cioccolato per le uova di Pasqua, ma anche squisiti formaggi. L'idea arriva da un caseificio di Ariane Urpino che ha deciso di travestire i caciocavalli, di addobbarli a festa per un dono sicuramente gradito a quanti al dolce preferiscono il salato e vanno molto più sul pratico. Si resta nell'eccellenza dei prodotti gastronomici perché l'Irpinia, si sa, o che si tratti di cioccolato artigianale o di prodotti casearei, supera sempre se stessa in fatto di qualità e bontà. Un bell'uovo di Pasqua, ma c'è davvero una sorpresa perché qui dentro non c'è cioccolato, ma un bellissimo caciocavallo stagionato e per renderlo più particolare durante le festività lo vestiamo a festa. Quindi oltre a essere prelibato per il palato, anche per la nostra vista. Quindi potremmo dire un caciocavallo travestito. Travestito, vestito a festa. Come vi è venuta questa idea? E per rendere più particolare la nostra Pasqua. I nostri clienti sono più contenti perché giustamente anche l'occhio vuole la sua parte. Ma qui vedo un uovo gigante. Cosa c'è in quest'altra confezione? Allora, qui c'è il nostro ottimo caciochiato che è il nostro prodotto di punta. particolare nel sapore. E poi altre particolarità, questo ciuccetto gratitissimo ai bambini, proprio a forma di ciuccio. E poi ci sta la nostra novità che è la caciotta al tartufo. Morbidissima, buonissima. E infine come novità ci sta anche il canestrato, sempre al tartufo.